Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. In questo video vi parlerò di due penne che io considero delle penne un po' speciali perché rispetto a quelle che di solito recensisco in questo canale si tratta di due penne eleganti per così dire, che hanno metallo al loro interno, sono costituite da metallo e plastica e quindi adesso andremo a vederle entrambe. Innanzitutto vi dico i nomi e i marchi di queste due penne. Allora partiamo dalla prima che è la Parker, il modello Jotter, eccola qua, in colorazione del fusto azzurro e poi la parte in metallo satinato e la freccia classica. Comunque le vedremo meglio non appena le tirerò fuori dalla confezione. La punta è M, c'ha il refill classico Parker ed è una penna Biro Ballpoint Pen. Vediamo dietro cosa c'è scritto nella scatola. Allora, penna a sfera punta media in chiostro blu. Due anni di garanzia contro i difetti del prodotto a prova d'acquisto necessaria. Ricaricabile con ricambi Parker e Quink Flow standard per penna a sfera o gel. Raccomandiamo l'uso di autentici ricambi cartucce in chiostro Parker per i suoi prodotti Parker. Ecco, questa è stata comprata ancora nel 2019 a Laoshan in via Venezia 61, praticamente appiccicati al centro Giotto e l'ho pagata 9,99€. Laoshan adesso non c'è più, c'è al suo posto il Conad City. Ho visto delle Parker Jotter, credo fosse la versione Pop con dei colori un po' del fusto sgargianti, alla Feltrinelli che c'è in centro a Padova ed erano una confezione da due penne uguali a questa, solo che appunto nella versione Jotter Pop, se non sbaglio il nome del modello. Comunque erano uguali, erano due pezzi in una confezione che costava 12€, quindi molto conveniente. Bene, dovete sapere poi che ovviamente ci sono un sacco di varianti di colorazione del fusto, quella più classica e seria è quella nera, poi ci sono colori pastello, ci sono veramente una gamma infinita di colori. Passiamo poi al marchio concorrente, Pelican con il simbolo del pellicano, Pelican Jets, Metal Ballpoint Pen, tratto M, Tune Your Colors. Ecco, vediamo che sta già uscendo dalla confezione perché io l'avevo già aperta e quindi andiamo a vederla, eccola qui, vediamo già che ci siamo quanto misura, ha il suo peso, allora misura circa 13 centimetri e mezzo da chiusa. Questa penna ha il fusto in plastica blu scuro, c'era tra quelle che ho trovato perché queste sono state, questa è stata acquistata al Desfar dell'Ipercity di Padova del Bignasego e praticamente ce n'erano di varie colorazioni, c'era il rosso mattone, c'era il blu più chiaro, c'era il verde oliva, c'era il nero, non ricordo se ci fosse anche il bianco, comunque c'è la disponibilità anche del bianco perché l'ho vista su Amazon. Allora questa è una penna che io considero elegante perché ha il suo clip in metallo con la molla, ha il puntale in metallo che si può vedere anche qui nella Parker che però è molto piccolo, qui invece è più pronunciato, è molto più lungo, si vede meglio. C'è la scritta pelica, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco, pelica, eccola qui, con il suo anellino dello stesso colore del fusto della penna e questa a differenza del Parker che è una clicker, praticamente una penna a scatto, questa invece è una penna non è a scatto, è ad avvitamento, avvitandola spunta la punta e andiamo adesso a vedere il confronto tra le due penne tirando fuori anche la Jotter dalla sua confezione. ecco qui le due penne messe a confronto per vedere appunto la lunghezza, vediamo che quella Parker è leggermente più corta, misura 13 centimetri, mentre la pelica misura 13 centimetri e mezzo, da chiusa 14 con la punta all'infuori. Ecco allora vediamo il design della Parker, vediamo che ha questo comodo, questa comoda clip fatta a forma di freccia per essere facilmente agganciata ad un taschino o magari al bordo di un'agenda o di un quaderno. C'è inciso in piccolino la scritta Parker con il logo Parker e vedete che è una penna a scatto, classica, però abbiamo la parte superiore che è in metallo sembra satinato, spazzolato, anche il pulsante è spazzolato, quindi è molto elegante e poi ha un colore più sbarazzino perché è un azzurro e poi abbiamo il puntale che è in metallo e la punta, vediamo se riusciamo a metterla a fuoco, eccola qua, vediamo più da vicino che è anche un po' sporca, dovrei pulirla perché d'estate l'inchiostro è fuori uscito un pochino quindi non c'è nessun problema di scrittura però è brutta da vedere, dovrei pulirla, avrei dovuto pulirla prima di fare questo video però insomma siccome la tengo sempre nel borsello e la utilizzo non molto spesso perché di solito la utilizzo per filmare dei documenti visto che l'inchiostro è anche molto affidabile e la confrontiamo di nuovo con la pelica, vediamo la punta della pelica, eccola qui, vediamo le due punte a confronto, se riusciamo a metterle a fuoco, scusate, eccola qua, diciamo che a mio avviso il refill pelican è molto simile, dovrebbe essere addirittura probabilmente compatibile con quello parker ma quando sarà finito appunto il refill, la ricarica, c'è l'inchiostro all'interno, mi rivolgerò ad una cartoleria che c'è in centro che si occupa appunto della vendita di pene di un certo livello tra penne stilografiche e penne biro e insomma penne eleganti che cominciano già a costare un bel po' di soldi, non vi ho detto però il prezzo, sì l'ho detto, 5 euro e 49 per questa pelica contro i 9,99 della parker, quindi due penne eleganti però tutto sommato economiche. Andiamo a vedere la prova di scrittura per queste due penne, vediamo che i tipi di blu sono diversi, allora per la parker jotter con tratto m, lasciate stare lo standard stick che era del precedente video, vedete che l'inchiostro è un po' più scuro della pelican jets, sinceramente mi ha convinto di più l'inchiostro jotter che è un po' più scuro invece quello della pelican è un po' più chiaro, comunque due inchiostri di qualità. Bene io penso di aver detto tutto perché quello che c'era da dire su questi due modelli, appunto le misure le abbiamo viste, ovviamente questa è un po' più piccola quindi è più, come si può dire, più tascabile rispetto alla pelican jets che è un po' più ingombrante però anche questa si può portare tranquillamente nel borsello senza nessun problema. Eccole qua. Quindi due penne che si sono trovate in dei supermercati, centri commerciali come volete dire e sono due penne che non potevo lasciarmi sfuggire, benché io sia un collezionista di penne usa e getta di plastica, ho detto questa a 5,49 euro, è un buon prodotto e inoltre può essere utilizzato anche per fare magari dei regali di compleanno o delle ricorrenze particolari. Lo stesso anche per la Parker che ovviamente è un cult nelle penne sia stilografiche che anche come pelican sempre stilografiche e per penne, penne biro, ballpoint pen. Bene, io vi invito a mettere mi piace a questo video, a condividerlo sui vostri social se anche voi siete appassionati di cancelleria come me, di lasciare un commento se avete domande in merito o anche se avete dei suggerimenti riguardo ai prossimi video, se magari avete dei modelli di penne magari che non costino un patrimonio, ma magari di quelle usa e getta che sono più economiche che io volete che recensisca e magari che non conosco, che non sono ancora apparse nel canale perché potrei averlo come no. E vi invito anche ad attivare la campanellina, ad iscrivervi al canale e quindi ottenere la notifica quando caricherò i prossimi video. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video!